foodglory.com per i vostri spacchettamenti trovate il link in descrizione buona visione questo sarà un video breve ma ragazzi stasera probabilmente ci sarà un altro video 50,000 mi piace, facciamo la live, mega spacchettamento di natale finalmente è giunto il momento ho faticato settimana scorsa e oggi andremo a riscattare i pacchetti del food champion vedrete cosa mi hanno dato professionista 3, boom e ci hanno dato un pacchetto giocatori di rarimaxi e un pacchetto premium squadra della settimana vuol dire 3 if in un pacchetto e oggi ce l'andremo a aprire insieme questa è la squadra della settimana cazzutissima squadra della settimana sono tutti forti tutti delle fottute bestie Ibra, Suarez, Mertens, Eriksen, Dembélé, Brugge crociamo le dita, ti fate per me questo sarà un video breve ma ragazzi stasera probabilmente ci sarà un altro video 50,000 mi piace, facciamo la live, mega spacchettamento di natale ci siamo apriamo subito un primo pacchetto questo sarà uno spacchettamento molto breve ma intenso intensissimo prima ci riscaldiamo ne apro 3-4 così quando mi esce il giocatore buono non in questo caso apriamo il pacchetto della squadra della settimana veramente contento di aver raggiunto professionista 3 anche potevo raggiungere addirittura professionista 1 solo che FIFA mi ha disconnesso 4 volte grazie fatemi sapere se vi capito anche a voi anche perché ho scoperto una squadra imbattibile e ragazzi mi scrivete qui sotto se volete gli squad builder se vi mancano perché magari ve ne porto un altro fatemelo sapere con tanti like e soprattutto scrivete squad builder nei commenti intanto umitti che non ce faccio niente è giunto il momento si esce da FIFA siiii ve l'ho detto che bisogna chiudere e riaprire FIFA 85 bravo bravissimo adama buono adama è giunto il momento di riscattare il pacchetto mamma mia io non ci credo ragazzi il full champion è difficilissimo ma ti regala queste soddisfazioni e chiunque esca va bene lo stesso insomma se è Ibraus Suarez è meglio giocatori apriamo il pacchetto 2 giocatori con karma ok non scarsino chi è? embolo dai ci può stare almeno non è l'argentone adesso pacchetto giocatori rari maxi 24 giocatori tutti oro e tutti rari già qua possiamo trovare un top player spolliciate se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella perché mi portate fortuna 40.000 like live natalizia 24.000 fifa points adesso 24 giocatori rari è un giocatore raro ma vaffanculo vai carvaglio vaffanculo mamma mia non essere così triste sono già triste io per te guarda merode popo e il culo guarda oh buono questo ancora carvaglio non mi devo incazzare devo stare tranquillo devo stare tranquillo passiamo a quello che è lo scopo del video siamo pronti 3 if per favore suarez per favore ibra ci siamo ragazzi sto emozionato il mio primo pacchetto if speriamo di fare almeno 400.000 credit andiamo ad aprire oh chi è oddio ho schippato buono 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 Dembélé buono ce l'ho però me lo rivendo immediatamente ho la carta quella lì oh one to watch la lana e rugani vabbè poteva andare molto meglio ma c'è andata un po' così nel club vabbè dai regà cioè sono sempre credit in più eccolo qua Dembélé peccato che ce l'ho one to watch però comunque un ottimo giocatore che si vende bene poteva andare meglio ma mi accontento spolliciato più non posso perché a 50.000 mi piace ci sarà un doppio video oggi e una live poi di Natale spero che il video vi sia piaciuto era veloce solo per mostrarvi semplicemente i premi che ho trovato è abbastanza ristretto ma era più che altro una soddisfazione per potervi mostrare i premi tanto ambiti tanto amati il risultato è a me non sono usciti ovvero il inferiore a 83 che è già tanto per me noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video vi mando un abbraccione un salutone e ci ricciao gente